Storia di un'anima di Santa Teresa di Lisie, scritto autobiografico, diretto a Madre Agnese di Gesù, la sorella Paolina. Infanzia radiosa ad Alencom, 1873-1877. Preambolo, dolce clima domestico, temperamento felice, l'inseparabile celina, gesto rivelatore, diavoletti in sogno, in sintonia con la natura. Teresa di Gesù, gennaio 1895. Storia primaverile di un fiorellino bianco scritta da lui stesso e dedicata alla reverenda Madre Agnese di Gesù. A lei, Madre mia cara, a lei che mi è due volte madre, confido la storia dell'anima mia. Quando lei mi chiese di farlo, pensai, il cuore si dissiperà, occupandosi di se stesso. Ma poi Gesù mi ha fatto sentire che, obbedendo con semplicità, avrei fatto piacere a lui. Del resto, faccio una cosa sola, comincio a cantare quello che debbo ripetere eternamente, le misericordie del Signore. Prima di prendere la penna, mi sono inginocchiata davanti alla statua di Maria, quella che ci ha offerto tante prove delle materne premure da parte della Regina del Cielo verso la nostra famiglia. L'ho supplicata che mi guidi la mano, nemmeno un vigo voglio scrivere che non piaccia a lei. Poi ho aperto il Vangelo e lo sguardo è caduto su alcune parole. Gesù salì sopra una montagna e chiamò a sé quelli che volle e andarono a lui. San Marco, capitolo terzo, versetto tredici Questo, proprio questo, il mistero della mia vocazione, della mia vita tutta, e in particolare il mistero dei privilegi di Gesù sull'anima mia. Gesù non chiama quelli che sono degni, bensì chi vuole lui, O come dice San Paolo, Dio ha pietà di chi vuole lui, ed usa misericordia a chi vuole lui. Non è dunque opere di chi voglia, né di chi corra, bensì di Dio che usa misericordia. Epistola ai Romani, capitolo 9, versetti 15 e 16 Per tanto tempo mi sono chiesta perché Dio abbia delle preferenze, perché tutte le anime non ricevano grazie in grado uguale. Mi meravigliavo perché prodiga favori straordinari a santi che l'hanno offeso, come San Paolo, Sant'Agostino, e perché, direi quasi, li costringe a ricevere il suo dono. Poi, quando leggevo la vita dei santi, che nostro Signore ha carezzati dalla culla alla tomba, senza lasciare sul loro cammino un solo ostacolo che impedisse di levarsi a lui, e prevenendo le loro anime con tali favori da rendere quasi impossibile che esse macchiassero lo splendore immacolato della loro veste battesimale, mi domandavo perché i poveri selvaggi, per esempio, muoiono tanti e tanti ancora prima di aver inteso pronunciare il nome di Dio? Ma Gesù mi ha istruito riguardo a questo mistero. Mi ha messo dinanzi agli occhi il libro della natura, ed ho capito che tutti i fiori della creazione sono belli. Le rose magnifiche e i gigli bianchissimi non rubano il profumo alla viola o la semplicità incantevole alla prattolina. Se tutti i fiori piccini volessero essere rose, la natura perderebbe la sua veste di primavera. I campi non sarebbero più smaltati di infiorescenze. Così è nel mondo delle anime che è il giardino di Gesù. Dio ha voluto creare i grandi santi che possono essere paragonati ai gigli e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli e questi si debbono contentare di essere margherite o violette, destinati ad allegrare lo sguardo del Signore quando Egli si degna di abbassarlo. La perfezione consiste nel fare la sua volontà nell'essere come vuole Lui. Ho capito anche un'altra cosa. L'amore di nostro Signore si rivela altrettanto bene nell'anima più semplice la quale non resista affatto alla grazia. Quanto nell'anima più sublime, in realtà è proprio dell'amore umiliarsi e se tutte le anime somigliassero ai santi dottori i quali hanno rischiarato la Chiesa con i lumi della loro dottrina, parebbe che Dio Misericordioso non discendesse abbastanza per aggiungerli. Ma Egli ha creato il bimbo, il quale non sa nulla e si esprime soltanto con striglietti deboli deboli. Ha creato il selvaggio, il quale nella sua totale miseria possiede soltanto la legge naturale per regolarsi e Dio si abbassa fino a loro, anzi sono questi i fiori selvatici che loro appiscono perché sono tanto semplici. Abbassandosi fino a questo punto Dio si mostra infinitamente grande allo stesso modo in cui il sole illumina i grandi cedri e i fiorucci da niente come se ciascuno fosse unico al mondo. Così nostro Signore si occupa di ciascuna anima con tanto amore quasi fosse la sola ad esistere. E come nella natura le stagioni tutte sono regolate in modo da far sbocciare nel giorno stabilito la prattolina più umile così tutto risponde al bene di ciascun'anima. Certamente, madre cara, lei si domanda dove io voglia arrivare perché finora non ho detto parola che somiglia alla storia della mia vita ma lei mi ha chiesto di scrivere liberamente quello che mi viene al pensiero perciò io non racconterò la mia vita vera e propria bensì i miei pensieri riguardo alle grazie che Dio mi ha concesse. Mi trovo a un punto della mia esistenza dal quale posso guardare il passato L'anima mia si è maturata tra prove esterne e interne Ora, come un boccio rafforzato dalla tempesta, mi risollevo e vedo che in me si verificano le parole del Salmo 22 Il Signore è il mio pastore, nulla mi può mancare mi fa riposare nelle pasture fresche e ricche mi guida dolcemente lungo il fiume conduce l'anima mia senza stancarla e quando anche scenderò nella valle ombrosa della morte non temerò danno perché Tu sarai con me, Signore Sempre il Signore è stato pieno di compassione per me e di dolcezza lento a punire e abbondante in misericordie Salmo 102, versetto 8 Così, madre mia, sono felice di cantare vicino a lei la misericordia del Signore Per lei sola scriverò la storia del fiore umile colto da Gesù e parlerò abbandonandomi senza preoccuparmi dello stile o delle tante digressioni che farò Un cuore di mamma capisce sempre il suo bimbo anche se questo balbetta soltanto e perciò sono sicura di essere capita indovinata da lei è lei che mi ha formato il cuore e l'ha offerto a Gesù Mi pare che se un fiorellino potesse parlare direbbe con gran semplicità ciò che il Signore ha fatto per lui e non cercherebbe di nascondere i benefici divini Per falsa modestia non direbbe sono sgraziato, non ho profumo il sole ha portato via il mio splendore la bufera ha infranto il mio stelo quando riconoscesse in sé tutto il contrario Il fiore che racconta qui la sua storia si rallegra perché farà conoscere le premure tutte gratuite di Gesù non ha niente lui e lo sa bene che possa attrarre lo sguardo di Dio ed anche sa che la sola misericordia divina ha fatto tutto il buono esistente in lui l'ha fatto nascere in una terra santa e quasi permeata da un profumo virginale l'ha fatto precedere da otto gigli sfolgoranti di candore nel suo amore ha voluto preservare il fiore umile dal soffio velenoso del mondo stavano appena per aprirsi i petali e il Salvatore l'ha trapiantato sulla montagna del Carmelo ove già ollezzavano due gigli proprio quei due che l'avevano avvolto e cullato dolcemente al suo primo germogliare sette anni sono trascorsi da quando il fiore si è radicato nel giardino dello sposo dei vergini ed ora vicine a lui ondulano tre corolle fragranti non lontano una dall'altra si apre allo sguardo di Gesù e i due steli benedetti che le hanno prodotte sono riuniti per sempre nella patria divina là hanno ritrovato i quattro gigli che la terra non ha visto fiorire oh che Gesù voglia non lasciare a lungo sulla riva straniera coloro che sono rimaste nell'esilio che ben presto tutto il cespo bianco sia completo nel cielo madre mia ho riassunto in poche parole ciò che il Signore ha fatto per me ora mi addentro nella mia vita di bimba so che là dove chiunque altro non vedrebbe che una tiritera noiosa il suo cuore di mamma troverà il fascino e poi i ricordi che evocherò sono anche i suoi perché l'infanzia mia è trascorsa vicino a lei e io ho la fortuna da appartenere ai genitori ineguagliabili i quali ci hanno avviluppate delle stesse premure e di uguale tenerezza benedicano essi la minima delle loro figlie e l'aiutino a cantare le misericordie di Dio nella storia dell'anima mia fino a quando sono entrata nel Carmelo distingo nettamente tre periodi il primo nonostante la brevità non è il meno fecondo di ricordi dall'iniziale destarsi della mia mente al transito della nostra mamma amata per tutta la mia vita è piaciuto a Dio circondarmi d'amore i primi ricordi sono sorrise e carezze tenerissime ma se egli mi aveva messo intorno tanto amore me ne aveva posto anche nel cuore creandolo amante e sensibile così amavo grandemente papà e mamma e dimostravo il mio affetto in mille modi perché ero molto espansiva soltanto i mezzi che usavo erano talvolta strani come lo prova questo passo di una lettera di mamma la piccola è un furicchio impagabile mi ha carezzata augurandomi la morte oh come vorrei che tu morissi povera mammina mia la rimbrottano e lei mi fa ma è perché tu possa andare in cielo già che tu dici che bisogna morire per andarci e in modo simile augura la morte anche al babbo quando è nei suoi trasporti d'amore il 25 giugno 1874 avevo appena 18 mesi ecco ciò che mamma diceva di me papà ha installato un'altalena celina è felice a più non posso ma bisogna vedere la piccina quanto si dondola è buffissima si regge come una bimba grande non c'è pericolo che lasci la corda poi quando non va abbastanza forte grida l'attacchiamo davanti con un'altra corda e nonostante questo non sono tranquilla quando la vedo issata lì sopra lì sopra lì sopra